Oggi ci faremo due domande e le risposte che ci daremo decreteranno il futuro dell'intera razza umana, giusto per partire con un po' di pressione. Si legge di basi sulla luna, di colonie su marte e alcuni di voi penseranno che questo sia un sogno da bambino oppure a fantascienza. Ma la fantascienza è la scienza di domani. Seguitemi in questo esercizio, proviamo ad immaginare come sarà la nostra società tra 500 anni, non tra 10 o tra 100, non dove vivranno i nostri figli o i figli dei nostri figli, ma dove saranno i pronipoti dei nostri pronipoti. È chiaramente difficile, impossibile pensare che tecnologie useremo tra 500 anni, 30 anni fa non avevamo neanche i cellulari, ma è ragionevole pensare che tra 500 anni viaggeremo nello spazio, avremo insediamenti su altri pianeti, ci potremo spostare da un pianeta all'altro, proprio come oggi prendiamo un aereo e andiamo in un altro strato, magari proprio per incontrare i nostri figli. Ed è altrettanto ragionevole pensare che non ci arriveremo in un sol botto, ci sarà un percorso da fare, un percorso costellato di innovazioni tecnologiche, anche di tanti insuccessi, ma grandi passi in avanti dell'umanità, e che questo percorso sarà iniziato da oggi a 500 anni nel futuro. Quindi la prima domanda è, perché non farlo iniziare oggi questo percorso? Perché non oggi? Se ci pensate, negli ultimi 60 anni abbiamo lanciato sonde ad esplorare il Sistema Solare, abbiamo messo l'uomo sulla Luna, lo Space Shuttle. In 60 anni abbiamo lanciato quasi 7.000 satelliti che ci hanno cambiato la vita, e tutto questo sopportato da ingenti investimenti governativi, che hanno permesso di creare quello che noi oggi chiamiamo mercato spaziale. E questo mercato sta cambiando, oggi sta cambiando, quasi 7.000 satelliti in 60 anni, più di 55.000 satelliti nei prossimi 10 anni, una crescita esponenziale, e tutti questi satelliti saranno lanciati da aziende private. Negli ultimi 5 anni sono nate più di 400 aziende, tutte supportate da capitali private, che oggi stanno lanciando satelliti attorno alla Terra per erogare servizi a noi, qui, che ci migliorino la vita. Da internet, internet of things, servizi meteorologici, monitoraggio dei disastri naturali. Oggi con i dati satellitari potete fare di tutto. Vi faccio un esempio. In Puglia, i pescatori, oggi, possono scegliere quando uscire in mare, dove andare a pescare i molluschi al giusto grado di maturazione, e quando venderli sul mercato al miglior prezzo possibile. Tutto questo grazie a servizi satellitari meteorologici, di osservazione della Terra, e anche i dati di borsa. Oggi è veramente un momento storico, siamo un momento di svolta, siamo i blocchi di partenza di questo percorso verso il nostro futuro. E magari voi state pensando, sì, bellissimo, questi servizi che ci aiutano, ci migliorano la vita, la Luna, Marte, ma dov'è la fregatura? Dove stanno i problemi, gli ostacoli che dobbiamo superare? Perché dei problemi in effetti ci sono. E come spesso succede, ci sono dei problemi che ci siamo creati noi. Ad esempio il problema dell'immondizia spaziale. Questi 7000 satelliti li abbiamo lasciati in orbita. Qualcuno, nel frattempo, esploso, altri sono andati a sbattere uno contro l'altro, generando centinaia di milioni di frammenti che viaggiano a 30.000 chilometri all'ora e oggi mettono a repentaglio tutto l'ecosistema spaziale. Quindi anche il nostro percorso verso il futuro. Ma anche ricordiamoci che questo è un mercato molto giovane. Mancano le infrastrutture che permettano di fare questo viaggio. Qui vediamo una nave cargo, un camion e un aereo da trasporto. Cosa manca secondo voi in questa immagine? Manca proprio il trasporto spaziale. Un servizio di logistica evoluta che aiuti non solo chi oggi sta lanciando satelliti attorno alla Terra per aiutarci, qui noi, ma che abiliti tutto quello che verrà dopo. E noi oggi la logistica la diamo un po' per scontata qui sulla Terra. Eppure senza servizi di logistica non ci sarebbero aziende. Immaginate anche chi produce penne a sfera, ha bisogno che qualcuno vada alla fabbrica, prenda le penne, le porti al distributore e poi via via fino al negozio, alla cartoleria dove voi potete comprarla ad un prezzo ragionevole. O anche se qualcuno di voi domani deve prendere un aereo da Torino verso Parigi è improbabile che metta la propria automobile dentro l'aereo, invece che magari prendere un taxi o un altro servizio di trasporto una volta arrivato all'aeroporto. Ecco, la logistica è un servizio abilitante e la logistica spaziale è quello che ci permetterà di costruire il percorso verso quei 500 anni del futuro. E vi devo dire che questo servizio oggi esiste già. Quello che vedete è un satellite cargo che è possibile riempire con decine di satelliti ed è in grado di portarli esattamente dove servono per poter fare il loro lavoro in qualsiasi punto dello spazio. Un po' come fa il furgoncino delle poste quando da Torino prende, va a Roma, Milano, Napoli a consegnare i pacchi. Questo permette oggi di risparmiare l'85% del tempo dal lancio di un satellite a quando questo satellite è pronto a derogare il proprio servizio e un 40% dei costi. Oggi agli operatori satellitari. Quello che vedete è un video girato dal cargo, dal furgoncino delle poste, ok, mentre rilascia uno di questi pacchi, uno di questi satelliti che è pronto ad operare. Questo è il primo servizio commerciale di trasporto satelliti mai esistito ed è stato inventato da un'azienda italiana. Ma non solo il servizio di trasporto satelliti, ci saranno satelliti che hanno bisogno di carri attrezzi spaziali, che vadano dai satelliti in panne o che portino la benzina a quei satelliti che l'hanno finita. O ancora un carro attrezzi che vada da quei satelliti che ormai sono a fine vita e li rimuova in modo sicuro, andando a risolvere quindi il problema dell'immondizia spaziale. Ma facciamo un altro passo in avanti. Con tutti questi satelliti che stiamo lanciando ci sarà bisogno di un sacco di furgoncini spaziali, un sacco di carro attrezzi spaziali. Ecco tutti questi verranno costruiti in orbita. E se ci pensate è abbastanza logico. Noi le navi non le costruiamo nei deserti per poi trascinarle in mare. Quindi perché i satelliti dobbiamo farli a terra per poi utilizzarli nello spazio? E se state pensando sì ma la materia prima per costruirli? Beh vi ricordate l'immondizia spaziale? Benvenuti nell'economia spaziale circolare. Tutti questi satelliti in disuso un giorno potranno essere opportunamente riciclati e poi magari utilizzando proprio stampanti 3D si potranno costruire nuovi pezzi che saranno assemblati da sistemi robotici intelligenti. Quindi oggi è un po' più facile pensare come potremmo riuscire ad andare a vivere su altri pianeti ed è anche un po' più facile credere quando si legge sui giornali di colonie su Marte. Anche se il termine colonia vuol dire un insediamento stabile che si autosostiene, non è proprio il termine che io utilizzerei oggi. Chiaramente non fraintendiamoci su Marte e ci andremo, questa è una certezza ed è anche probabile che metteremo dei moduli abitabili. Ma questi moduli avranno bisogno di risorse, di approvvigionamenti e sarà così costoso mantenerli che nessuno Stato, nessuna azienda al mondo riuscirà a farlo a lungo termine. Anche in questo caso servirà un servizio di logistica, un servizio di approvvigionamento che colleghi Marte con la Terra, la Luna e la fascia degli asteroidi, un po' come avviene per i servizi cargo o i servizi traghetto che collegano le isole di un arcipelago. Quindi bellissimo questo futuro che ci aspetta con questi servizi che ci miglioreranno la vita lungo un percorso costellato di sfide ma anche di innovazione, un percorso che sarà abilitato da un servizio di logistica intelligente e un percorso che possiamo scegliere noi quando far partire che in realtà se vogliamo è già partito. Ma non abbiamo detto come percorreremo questa strada, non abbiamo detto come l'uomo si espanderà nello spazio. E vedete ci sono diversi scenari che possiamo andare ad analizzare ma se volessimo riassumerli in tre macro scenari arriveremo a questi. Il primo scenario è quello delle locuste, quindi l'essere umano come uno sciame di locuste ha depredato tutte le risorse naturali che oggi ci tengono in vita e quindi si sposta di pianeta in pianeta depredando, spostandosi e così via pensando che tanto l'universo è grande. Poi magari un giorno scoprire che forse non era proprio così. Il secondo scenario è quello dell'asteroide. Oggi ci sono decine di asteroidi che minacciano di colpire la Terra, sono costantemente monitorati, quindi la razza umana preoccupata da questa minaccia di estinzione globale, che cosa fa? Si duplica e va su altri pianeti in modo tale da ridurre la probabilità di estinzione della specie umana. E lo fa in modo assolutamente uguale, creando tante terre tutte uguali che hanno fatto gli stessi percorsi e gli stessi sbagli, un po' come oggi si va in un fast food di una catena di franchising, quindi tutte con la stessa modalità, fino a un certo punto trovarsi, anche loro, ogni singola Terra di fronte al dilemma, benissimo, adesso quale scenario ci aspetta. E poi infine c'è lo scenario quello buono, giusto dove l'uomo spinto dal proprio istinto di esploratore va verso lo spazio migliorando la vita di tutti, applicando concetti di economia circolare e quindi un'economia non ad impatto zero ma addirittura rigenerativa che migliori la vita. Quindi la mia seconda domanda è quale scenario ci aspetta? Qual è lo scenario che ci troveremo di fronte? Il primo, quello delle locuste, se ci guardiamo intorno forse un po' locuste lo stiamo già facendo, o il secondo in cui continueremo a ripercorrere sempre gli stessi errori. È chiaro che questi due scenari ci porteranno inevitabilmente all'estinzione, l'universo non è abbastanza grande per una civiltà che non sa imparare dai propri errori e a farne la spese saranno i figli dei nostri figli. Ma fermiamoci un attimo, abbiamo detto che il percorso verso il futuro possiamo scegliere noi quando partire, allora forse possiamo scegliere anche come percorrerlo e possiamo scegliere come sarà lo scenario che ci aspetta, possiamo deciderlo, disegnarlo, progettarlo e questa è una scelta della nostra civiltà e la civiltà è fatta di persone, quindi in realtà è una scelta nostra, una scelta dei singoli individui, di quello che facciamo tutti i giorni, dell'educazione che diamo ai nostri figli. È la nostra scelta di essere, di diventare l'esempio che vogliamo seguire, perché vedete non ci sarà l'una, Marte, l'universo per noi, non ci sarà per i nostri figli o per i figli dei nostri figli se non vogliamo che ci sia. E volere prendere questa decisione non è poi così difficile, basta applicare quel concetto che a prima vista sembra sofisticato, qualcuno lo chiama sostenibilità, qualcun'altro economia circolare, economia rigenerativa, io lo chiamo buonsenso. Quindi domani mattina, quando vi alzate, cosa farete per creare un futuro capace di futuro? Grazie.